Fra i progetti blockchain più promettenti c'è sicuramente la blockchain di cielo, una blockchain innovativa, veloce, a quanto pare anche sicura, nella quale stanno nascendo tantissimi nuovi progetti. Uno di questi è il Resource Finance, un nuovo modo di pensare riguardo la finanza decentralizzata, il quale potrebbe avere delle implicazioni anche sulla vita reale. Per conoscere questo progetto segui attentamente tutto il video, altrimenti potresti perderti dei passaggi importanti. Per il resto lo vediamo subito dopo la sigla, benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo per al pane e vino al vino. Come al solito tutto quello che avverrà in questo video non sono consigli finanziari ma sono solo opinioni personali. Se non sei registrato iscriviti al canale, attivando la campanella così non ti prendrai nessun video e nessun aggiornamento. Cominciamo intanto col dire che questa Resource Finance è un nuovo progetto lanciato su questa blockchain fantastica che è Cielo, il quale verrà lanciato sulla blockchain di Cielo perché ancora non è uscito. Ad ogni modo questo progetto mira ad unire l'idea di finanza decentralizzata, la mira a portare l'idea di finanza decentralizzata nel mondo reale e quindi unire tutta la blockchain, tutto l'aspetto di decentralizzazione nel mondo reale è quello che poi per quanto mi riguarda in un futuro potrebbe davvero fare la differenza. Ed ecco qui il sistema di Resource Finance, il quale vuole portare tutte le risorse fondamentalmente non utilizzate da parte dei merchant, da parte di aziende, tutti prodotti quindi fisici in una tokenizzazione, quindi in modo del tutto tokenizzato e decentralizzato nel mondo delle criptovalute. Quindi quello ad esempio io fossi un'azienda e avessi dei beni, dei prodotti, dei quali non ne ho necessità, dei quali ad esempio non so ne ho presi in quantità elevate o quello che sia, io posso metterli a disposizione di altri commercianti, di altre aziende, i quali potrebbero magari invece averne necessità. Il tutto in modo tokenizzato e decentralizzato grazie alla blockchain di Cielo e grazie a Resource Finance. Quindi nel modo pratico che cos'è che fa? Permette l'accesso alla liquidità a dei merchant, quindi a delle aziende, quindi senza bisogno di credito o di altri requisiti, se non semplicemente collateralizzando i loro beni, il loro inventario ad esempio. Mentre gli investitori possono guadagnare dei reward credendo naturalmente nel progetto e validando queste transazioni dei merchant piuttosto che di tutto l'ecosistema. Il tutto senza valuta fiat, quindi senza necessità di euro o dollari che sia. Il protocollo di Resource Finance permette alle aziende di monetizzare quello che loro già hanno, l'inventario inutilizzato, il tempo libero dal lavoro e qualsiasi altra risorsa, compresa la loro stessa attività. Quindi possono prestare i loro beni o i loro servizi inutilizzati e ricevere in cambio quello di cui loro hanno bisogno. Questo credito mutuale, questo sistema di credito mutuale è assicurato e distribuito dal network stesso e dagli investitori. È quindi un sistema che mira a portare l'economia reale all'interno del settore della blockchain. Se mi seguite da un pochino di tempo sapete bene come la penso. Per quanto mi riguarda i futuri progetti, quelli che avranno successo, sono quelli che riusciranno ad andare oltre il mero livello speculativo e quindi portare dei servizi concreti, dei beni concreti, qualsiasi cosa a livello concreto nella vita di tutti i giorni. Questo è quello che vuole fare. Vediamo come si evolverà. Ad ogni modo, fino adesso mi sembra un progetto molto valido. Se avete necessità, magari se vi piace il progetto, per avere maggiori informazioni, qua potete semplicemente inserire la vostra email sul sito di Resource Finance e cliccare su Get TGE Announcement. TGE sarebbe Token Generation Event, ossia questo token ancora non esiste. Se volete avere maggiori informazioni di quando questo avverrà e come, semplicemente inserire la vostra email qua, cliccando qui, e verrete registrati. In questo momento chiaramente non so qualora vi registrate su questo sito direttamente se potete partecipare in qualche whitelist alternativa, perché per ora, fino adesso, è previsto verso novembre il suo lancio su DAO Maker. Quindi a parte quello che si sa, quello che non si sa naturalmente non posso dirvelo. Quindi questo è un progetto del tutto differente rispetto a quelli che siamo abituati a vedere, con grandi ambizioni, naturalmente rigate tanto e tanto lavoro, quindi l'idea è geniale, il concreto e vedere come si realizzerà ed eventualmente come si espanderà è tutto un altro discorso. Ma l'idea, per come la vede il Marchese del Cripto, è un'idea geniale. Poi anche voi fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace, non vi piace e via dicendo. Quindi quello che vuole fare inoltre il Resource Finance è quello di creare una Stable Coin, una Stable Coin che non è artificialmente peggata a valuta fiat o ad altri asset, piuttosto che collateralizzata ad altre criptovalute, ma una Stable Coin il cui valore è dato dai beni stessi che si trovano al suo interno. Quindi una Stable Coin, diciamo, collateralizzata, quasi centralizzata, praticamente passatemi il termine, ma in maniera del tutto decentralizzata. Questa, come potete vedere, è una figata mostruosa. Poi naturalmente vediamo come si evolverà, ma l'idea, ragazzi miei, per come la vedo io, è geniale. Questo progetto potrebbe essere visto anche come un sistema di credito alternativo, il quale potrebbe dare liquidità a diverse tipologie di aziende, di freelance, di compagnie, insomma, quindi di quello che volete. Ad ogni modo, magari, queste figure potrebbero avere dei problemi ad avere del credito, a sviluppare le proprie idee, invece con questo sistema potrebbero essere facilitati in questo. Quindi facendo un ragionamento più ampio, pensate adesso magari a voi stessi, vi sarà avvenuta magari un'idea geniale nella vostra vita, qualcuno l'ha realizzata, qualcuno no, per chi ad esempio non ci fosse riuscito, magari perché non è riuscito a farla, magari aveva problemi economici, non aveva il credito a sufficienza, doveva rispettare certi requisiti e via dicendo. Grazie alla blockchain, grazie a questo progetto, non solo a questo, ce ne sono anche altri, ma insomma grazie a questi progetti si avrà la possibilità di realizzare le proprie idee. Quindi immaginate in un futuro prossimo questa libertà di idee, libertà di espressione, facilità anche di avere credito per la realizzazione delle proprie idee, pensate dove arriveremo. Questo è solo l'inizio. Sempre sul sito è possibile iscriversi ai vari social, quindi il Telegram, il Discord, Facebook o quello che volete. Qui ci sono alcuni partner, Cielo, primo fra tutti, anche perché è un progetto che verrà realizzato sulla blockchain di Cielo, ci sono altri investitori importanti, non è un progetto diciamo il quale arriva con le fanfare, ma è un progetto da tenere, abbiamo da vedere, sicuramente in considerazione. Quindi da approfondire, il che non significa necessariamente investire, significa semplicemente approfondire e dare un'occhiata, magari seguirlo. Se poi uno ritiene che il progetto faccia quanto detto, gli piace il progetto o altre cose e ritiene opportuno finanziare questo progetto, può eventualmente pensare di fare l'investimento. Ma questa deve essere una scelta ponderata, a mio modo di vedere, e non mettere i soldi tanto bene. Poi ognuno è libero di fare quel che vuole. Come vediamo è in fase di arrivo questa SHO su DAO Maker, quindi questa IDO, insomma chiamiamola come volete. Ad ogni modo c'è questo lancio di criptovaluta su DAO Maker, ma oltre a questo, presumo, ci saranno altre modalità di lancio di questo Reserves Finance. Naturalmente titer o aggiornato direttamente nel canale Telegram del Marchese del Cripto, se non si è registrato sotto tutti i link. Su DAO Maker ce ne sono tanti di progetti interessanti. Qualcuno più, qualcuno meno, Reserves Finance mi sembra davvero ben fatto. Per quanto riguarda la torta della distribuzione di token, mi sembra anche ben fatta, considerando che tutto l'ecosistema interno, fra fondazione, team e riserva, sia inferiore al 40%. Tutto il 60% viene messo per altre iniziative e un ottimo 38% per lo staking, per la liquidità. Mi sembra davvero curato anche questo aspetto. Per quanto riguarda i token, ce ne saranno 100 milioni di questi SOURCE, il token si chiamerà SOURCE, e come ci dice il white paper stesso, non potranno essere generati più di questi 100 milioni di token. Facciamo un attimo una considerazione personale. Per quanto mi riguarda il progetto, come detto, mi sembra un progetto fantastico. Naturalmente da approfondire. Per approfondire, come detto, intendo seguire e non investire necessariamente. valutare attentamente gli sviluppi potrebbe essere un progetto che, sulla lunga, potrebbe dare delle soddisfazioni. L'idea, a mio modo di vedere, è buona. Il tutto sta a verificare come verrà realmente apportata nella vita reale e se questo avrà successo. Molto probabilmente siamo nelle fasi iniziali di questo passaggio. Ma nel lungo termine, a mio modo di vedere, non ce ne sarà per nessuno. La blockchain e le blockchain e le criptovalute entreranno prepotentemente nelle nostre vite. Ma una volta iniziato questo processo, penso che non possa essere arrestato. Se questo video ti è piaciuto, un bel like. Fammi sapere anche tu qua sotto nei commenti cosa ne pensi di Resource Finance, dell'ecosistema di cielo e di tutto quello che si andrà a creare. Ho visto che stanno anche lanciando dei launchpad. Vedremo se magari eventualmente farò dei video. Si sta creando un qualcosa di carino anche su questo ecosistema. Un bel like se il video ti è piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao, buona giornata.